primo stop stagionale per l'olimpia milano che al pireo cede neurolega contro l'olimpiacos dopo un primo tempo buono per i biancorossi menghini il ritorno da parte di padroni di casa guidati da zuccas nella ripresa per milano buone cose per cacio rodriguez fino all'intervallo lungo poi il terzo quarto a cambiare le redini della gara finale con roll nel tentativo di trovare i canestri della vittoria ma l'olimpiacos porta a casa questi due punti neurolega